L'essersi visto negare l'ingresso in un locale di Canicatti ha mandato su tutte le furie un canicattinese di 32 anni che per tutta risposta ha pensato bene di raccogliere un bastone e lanciarlo contro la porta d'ingresso del locale. Solo che in quel preciso istante una giovane di 26 anni si trovava proprio nei pressi dell'ingresso ed è stata centrata in pieno viso dall'oggetto scagliato dal 32enne, rimanendo ferita e riportando un trauma cranico giudicato guaribile in una settimana dai medici dell'ospedale Barone Lombardo di Canicatti. Non è chiara la ragione per cui al giovane sia stato impedito l'ingresso nel locale, tra l'ipotesi un presunto stato di ubriachezza e il fatto che in passato avesse dato in escandescenze. La ragazza è stata subito accompagnata in ospedale per essere curato e poi ha deciso di denunciare l'accaduto ai poliziotti del commissariato di Canicatti e adesso l'autore del gesto rischia l'imputazione per lesioni. Quest'ultimo, stando a quanto emerso finora, non sembra essere nuova imprese del genere, visto che la scorsa settimana aveva lanciato, per motivi non ancora noti, una bottiglia di vetro in Piazza Dante, dove erano presenti parecchie persone.